Oroscopo del giorno, sabato 4 marzo 2017. Per i single qualche delusione per un'amicizia falsa ma presto ci saranno novità anche in campo sentimentale. Lavoro, valutate gli investimenti e siate prudenti nelle scelte. Per qualcuno oggi potrebbe esserci un meritato riconoscimento, apprezzatelo. Toro. Possibili incomprensioni e litigi in agguato con il partner. Non perdete la pazienza ma piuttosto cercate di aggiustare le cose e di far tornare il sereno. I single avranno qualche delusione dalle amicizie virtuali ma per fortuna potranno contare su quelle vere. Lavoro, moltiplicate gli sforzi per raggiungere gli obiettivi. Se siete in ufficio cercate di svolgere al meglio le mansioni assegnate e di non distrarvi. Cancro. Amore, se cercate di affrontare la persona amata per un chiarimento, sappiate che oggi non è il giorno adatto. Con Marte tutto potrebbe degenerare creando situazioni imbarazzanti. I single oggi potranno scoprire i motivi di una gelosia da parte di una persona. Lavoro, impegnatevi di più sul vostro progetto se vi sta veramente a cuore. Non abbiate paura di qualche sacrificio, i risultati verranno a breve. Leone. Amore, riflettete sul vostro presente e cercate di capire cosa dovete cambiare. Se si tratta dellamore, date più fiducia ad una persona che vi vuole veramente bene. I single oggi potranno dedicarsi a relax e al benessere e trascorrere una giornata piacevole. Lavoro, prima di dare fiducia ai colleghi conosceteli meglio. Non fatevi incantare da coloro che parlano troppo e si vantano, spesso sono fatui. Virgine. Amore, svagatevi e se possibile organizzate unuscita con la persona amata. Siete impensieriti per una strana situazione che si è venuta a creare, chiedete aiuto. Per i single è una giornata un po' particolare e dovranno cercare di affrontarla rilassandosi e rigenerandosi. Lavoro, nuove opportunità per spostenere colloqui di lavoro e qualcosa di positivo si profila allorizzonte. Impegnatevi per dare il massimo. Bilancia. Amore, affrontate una delicata situazione amorosa prima che sia troppo tardi. Dovete decidere adesso e non rimandare sempre. Non siate ansiosi. Qualcuno tornerà a farsi vivo nella vita dei single e si presenteranno buone occasioni per cambiamenti radicali. Lavoro, mantenete la calma anche di fronte a persone che sparlano di voi. Cercate di essere voi stessi e di parlare con diplomazia per sconfiggere gli invidiosi. Scorpione. Amore, prendete il coraggio a due mani e conquistate finalmente la persona che vi sta a cuore. Con la luna e giove dalla vostra parte avrete tutte le energie al massimo. Per i single oggi è una giornata divertente e rilassante, da trascorrere con gli amici di sempre e magari a fare shopping. Lavoro, non innervositevi se qualcosa non va come dovrebbe. Possibile unoccasione da cogliere al volo, valutate bene i pro e i contro. Sagittario. Amore, oggi avrete parecchie occasioni per chiarirvi con il partner. Cercate di dare un punto fermo ad una storia che vi sta particolarmente a cuore. Siate decisi. I single dovranno essere più selettivi e allontanare alcune amicizie che gettano nello sconforto. Lavoro, mattinata tranquilla, ma il pomeriggio sarà decisamente più movimentato. Alcune persone cercano di invadere la vostra privacy. Buone le occasioni di lavoro. Capricorno. Amore, recuperate la fiducia della persona amata e migliorate il rapporto. Dovete anche tenere a bada la gelosia che potrebbe farvi commettere qualche passo falso. I single oggi dovranno fare ordine e pulizia nella loro vita e scegliere meglio le amicizie. Lavoro, possibili cambiamenti in vista e sicuramente in meglio. Potrete finalmente realizzare qualche progetto che vi sta a cuore da tempo. Acquario. Amore, non trascurate il partner e organizzate qualcosa per stare insieme. La lontananza è dura da affrontare, ma con un po' di collaborazione tutto si può affrontare. Ottima giornata per i single di vivere splendide avventure. Possibile gita fuori porta. Lavoro, una questione delicata vi darà del filo da torcere. Pazientate e chiedete aiuto ad un amico fidato di cui scoprirete lati positivi. Pesci. Amore, oggi le stelle non sono proprio a vostro favore e un litigio nella coppia potrebbe portare ripensamenti e malumori. Non state a recriminare e agite. Alcune complicazioni renderanno la giornata difficile ai single che dovranno faticare per risolverle. Lavoro, non curatevi dei pettegolezzi sul vostro conto, piuttosto allontanatevi e fate calmare le acque. Un po' di tregua ogni tanto ci vuole. . .